Probabilmente molti autori sanno raccontare benissimo una cosa che parte da loro stessi e non sanno interpretare bene le cose che arrivano da un'altra parte. Però in fondo se uno fa un film da un libro è perché quel libro ha qualcosa che lo interessa tantissimo e secondo me uno deve rimanere attaccato e legato a quella cosa che lo interessa tantissimo. Se ci riesce a rimanere legato e attaccato è come se scrivesse una cosa sua. Grazie a tutti. Ciao a tutti, bentornati. Siamo qui all'Hotel Regis di Roma per il fuorifesta del Festival del Cinema di Roma. Io sono Giovanni. Io sono Francesco, arte settima suite. Non hai citato il titolo? Siamo qui nella nostra bellissima suite che ci è stata prestata all'Hotel Regis. Abbiamo un grande ospite, lo sceneggiatore Francesco Piccolo. Grazie, grazie per il grande. Sei il sceneggiatore di molto del cinema italiano che io amo di più. Grazie, grazie. Però con Francesco faremo quattro chiacchiere non in qualità di autore cinematografico ma in qualità di spettatore. Perché giustamente, come tutti quelli che lavorano nel cinema, si parte dal presupposto che amino il cinema. E' che non è scontato. Io amo molto il cinema. Non so il cinema. Tutto quello che ha a che fare con le serie e tutto. Però non credo che sia scontato. No, no, infatti... Poi guarda tutto. Certo. Perfetto. Tutti i miei... Insomma... Anche YouTube guarda anche... Sì, sì, sì. Poi vado a cercare quello che mi piace, vado a cercare quello che mi incuriosisce, vado a cercare quello che mi dicono che devo vedere. E ho anche un sistema. Con i film no, ma con le serie ho il sistema che mi vedo uno o due episodi e poi vado avanti solo se questa cosa è veramente per me interessante in qualsiasi modo. Anche molto brutta. Perché quando una cosa è molto brutta insegna moltissimo. Cioè magari riesce a rubare qualcosa di interessante in qualunque opera. Bello questo, questo è molto interessante. No, ma sempre, anche con i film, questa è una cosa che io dico sempre agli sceneggiatori giovani, che i film brutti e le serie brutte sono importanti per rimparare quanto i film belli e le serie belle. Perché dai film brutti si vede benissimo quello che non devi fare. Si vede benissimo. Quindi forse anche più dei film belli. Secondo me sì, perché sai, i film belli, poi è facile a dire, voglio fare pure io quello. Invece non devo fare quello, è più semplice. Ti posso fare allora una domanda un po' giocosa in realtà su questo tema. Esiste un film che non ti ha convinto e dopo la visione tu hai pensato in qualche modo, avrei voluto scriverlo io in modo diverso? No, devo dire questa cosa, la prima parte sì, questo film mi ha convinto come no. La seconda parte no, non ho questa. Anche perché come spettatore faccio lo spettatore. Casomai faccio lo spettatore curioso dal punto di vista professionale, ma non tendo a sostituirmi a chi ha scritto. Però per esempio, un esempio che mi piace fare e che qualche volta ho usato addirittura nelle scuole di scrittura, è un film tratto dal romanzo di Shiguro, Non lasciarmi, che è un film, tra l'altro una trasposizione cinematografica, cosa ancora più precisa, cioè come fare un film da un libro. E quello è esattamente come non fare un film da un libro, perché io faccio questo gioco con gli studenti che abbasso il volume del film e dico dovete capire che film è. E' impossibile capirlo, totalmente impossibile. Mentre invece qualsiasi film vediamo, se lo vediamo senza audio, noi sappiamo dire su per giù cosa sta succedendo. Cioè potete prendere qualsiasi esempio, si può dire, quei due si amano, tipo. Ecco là non si capisce, cioè si capisce qualcosa, ma non c'entra niente col film. Ecco questo è un cattivo esempio di scrittura perché vuol dire che tutto è affidato alle parole e nulla è affidato all'immagine e per fare cinema bisognerebbe affidarsi all'immagine. Quasi come se ci fosse proprio un dover prestare più attenzione all'immagine quando si traspone un romanzo. Io conosco molti autori che hanno fatto grandissimo cinema, ma che poi quando hanno provato ad adattare romanzi non hanno mantenuto la stessa imponenza, la stessa efficacia nel dire le cose. Allora, ovviamente, secondo me c'è anche una casualità. Probabilmente molti autori sanno raccontare benissimo una cosa che parte da loro stessi e non sanno interpretare bene. le cose che arrivano da un'altra parte. Però, in fondo, se uno fa un film da un libro è perché quel libro ha qualcosa che lo interessa tantissimo. Secondo me uno deve rimanere attaccato e legato a quella cosa che lo interessa tantissimo. Se ci riesce a rimanere legato e attaccato è come se scrivesse una cosa sua. Quindi non per forza essere fedeli al libro, ma fedeli più all'idea che uno si è fatto del libro. Secondo me fedeli alla spina dorsale di quel libro. Poi uno se ne può allontanare o ci può rimanere vicino. Faccio un esempio di cose che ho fatto io in questi ultimi anni, che è l'amica geniale. Noi abbiamo fatto una serie che assomiglia tantissimo al libro, ma facendo migliaia di piccoli tradimenti per fare in modo che assomigliasse al libro. Però non abbiamo mai, non ci siamo mai allontanati dalla sostanza di quello che voleva raccontare l'amica geniale. Appunto dalla spina dorsale, proprio dalla colonna vertebrale del libro. Allora tu puoi fare la rivoluzione con un film rispetto a un libro, però il motivo per cui ti è piaciuto ed il motivo per cui quel libro ha un senso, quelle due cose là non le puoi perdere mai. Bello. Una domanda un po' personale invece. Ti ricordi qual è stato il primo film che ti ha fatto innamorare del cinema? Allora, io l'ho scritto in un libro, questo, ed è stato otto e mezzo. Ma otto e mezzo mi ha fatto innamorare non solo del cinema, ma in qualche modo mi ha insegnato anche a scrivere letteratura. Quindi ha fatto molto di più. Però di film che mi hanno fatto innamorare del cinema ce ne sono molti. Diciamo che forse uno dei primi, parlo della vita cosciente, dell'infanzia, del... Anche se pure quello è interessante. Sì, sì, casomai posso anche dire quello, ma un film per esempio che mi ha totalmente incantato è stato La Sera della Prima di Cassavetes, perché è il primo film che ho visto in un cineclub che si inaugurava nella mia città, era il primo film, si chiamava, avevano fatto La Sera della Prima proprio per quel motivo. Quel film mi ha proprio spezzato, perché era meraviglioso. Poi da ragazzo vedevo tantissime cose, vedevo dei film strazianti. Per esempio ho un ricordo indelebile di Incompreso di Comencini, perché era un film che faceva soffrire tantissimo e equivaleva un po' a un libro per ragazzi. E poi Sandokan, Sandokan e tutta la sua... Io con Sandokan credo di aver imparato che cosa fosse la narrazione, perché Sandokan a un certo punto... Che era televisivo? Era televisivo, sì sì, era una serie con Kabir Bedi, era di Solli ma padre. E a un certo punto Sandokan incontra la tigre e c'è il duello tra Sandokan e la tigre. Saltano l'uno contro l'altro e si interrompe l'episodio e a quel punto non c'era la possibilità di vederlo, doveva aspettare una settimana. In tutta quella settimana io ho pensato a cosa poteva succedere lì e come se fosse nata la narrazione dentro di me. Bello, interessantissimo. Sandokan. Sandokan, io non l'ho visto. Sandokan, credo che possa essere ancora molto bello. Un'ultima domanda, un'ultima domanda. Posso farla io? Tutto tua. Che ne pensi di Romanzo Criminale e del suo adattamento prima in film e poi in serie? Allora, Romanzo Criminale è stato un libro molto forte, perché insomma io avevo letto i libri di De Gataldo fino a quel momento, era interessante, ma Romanzo Criminale fa proprio da una botta. e si capisce benissimo che è qualcosa che deve avere a che fare col cinema. Esatto. Io mi ricordo che ho amato molto il film, devo dire, perché c'erano degli attori, dei personaggi molto potenti. E poi il passaggio alla serie è stato molto, molto fico, perché hanno cambiato completamente, non soltanto gli attori, anche un po' il tipo di narrazione. Hanno fatto quella cosa che per le serie è molto bella, perché scrivere una serie ti dà la possibilità di avere tempo. Esatto, espandere. Che nel cinema non ce l'ha mai. Nel cinema devi correre. Che è una cosa anche quella bella dal punto di vista narrativo, però quando poi improvvisamente ti dicono, va bene, è il tempo di raccontare, quella è una cosa molto bella. Lella si sente molto bene il tempo di raccontare nella serie. Pensi che sia più, scusami. Tu lavori spesso con altri sceneggiatori, però hai lavorato anche da solo. Come ti relazioni a queste due tipologie di lavoro? Allora, dato che io scrivo libri, a me piace molto di più lavorare con gli altri per le sceneggiature, perché già sto molto da solo con i libri, però qualche volta mi capita anche di scrivere da solo. Mi piace anche lavorare veramente tutti insieme. Nella stessa stanza, facendo buoni storni. Sì, sì, per esempio i film di Virgì e i film di Moretti, noi li abbiamo scritti sempre, ogni parola, proprio ogni singola parola, sempre tutti insieme. Penso che c'è una cosa di tutto questo che ha un valore che è rimasto sempre uguale, credo, dagli anni 40, 50, da quando è cominciato il grande cinema italiano. Cioè questa cosa della comunità, delle persone che si vedono, che si raccontano i fatti loro, che si bevono i caffè, che parlano di altro, e poi pian piano entrano dentro la storia ed è tutto... e non ci sono confini tra la tua vita e quello che stai facendo di lavoro. E poi è molto misterioso ed eccitante il fatto che insieme delle persone riescono a creare una cosa. Questo è molto bello. Bisogna avere un bel carattere come sceneggiatori. Questa è una cosa che dico sempre alle persone che vogliono fare gli sceneggiatori. Non c'è bisogno solo del talento, c'è bisogno del bel carattere, perché devi stare con delle persone per tanto tempo. Poi le persone devono avere voglia di stare insieme a te come tu devi avere voglia di stare con gli altri. Bellissimo. Ok, con questa battuta direi... Con questa battuta si conclude questa bestia di chiacchierato. Se ci vuoi ritornare a passare, a passare, a ritornare a trovarci più tardi, noi siamo sempre qui. Grazie. Grazie Francesco Piccolo. Grazie. Grazie. Grazie.